Allora, registro un video, vi faccio la lettera, devo creare una lettera nella mappa mia Allora, lette, aspetta, ma che qua è un foglio Ma, lettera dagli zombie Ciao, ciao Vincenzo, siamo gli zombie, stiamo vedendo tutta la città di Fortnite Stiamo per concludere Fortnite E il tuo canale sarà finito, si distruggerà tutta la mappa dagli zombie No, oh no Dove stiamo? Ma che cazzo? Ma che diamine? Ma che diamine? Che cos'è questo mondo? Tutto pieno di... questo è un razzo per distruggere tutto Fortnite No, 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 no Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Ragazzi, avete letto dall'intro cosa è successo Ma ragazzi, quella è tutta una roba fatta apposta, non vi preoccupate Ovviamente, ragazzi, oggi siamo qui Su... è tutto, ragazzi, è tutto una finta Non è vero che chiudi il canale, ma che cazzo sto dicendo Ragazzi, oggi semplicemente faremo una gara contro gli zombie Infatti qua ci stanno tutte dei zombie qui Tutte delle cose dei zombie, non lo so come si chiamano E qua metto un paio Ragazzi, adesso dobbiamo mettere un paio di strutture Se ho la mente il robot non c'entra niente Perché adesso dobbiamo fare una cosa contro gli zombie Il robot c'entra qualcosa? No, infatti Oh, no, allora Infatti ragazzi, quella parte è fatta tutta apposta Quindi, no, calmatevi Allora Mettiamo qua, allora Oh, ok Ma questa è la colpa si tocca a quel pezzo Ok Adesso, ragazzi, dovremmo mettere Mettiamo qualcosa che ci stia un sacco Non lo so cosa mettere Sapete? Rapide rischioce ci starebbe un sacco Per questi zombie Aspettate Infatti, dove lo metto? Rapide rischioce? Qua Eccolo qua Adesso, raga Non ci resta solo di mettere alle cesse le cose Che mi vanno di più Allora, mettiamo questo Poi mettiamo un bel scar E un bel questo Perché ci sta Ci sta E poi La minigun E la mitraglietta dattica E basta Ah, è lo spasso Adesso, ragazzi, basta creare solamente un forciere E qua Ecco qua Adesso, ragazzi, ho visto che abbiamo creato Tutta la mappa Dobbiamo solamente avviare la partita 3, 2, 1 Raga, avviamo la partita E vediamo cosa ci faranno gli zombie Lo so che durerà un poco questo video Ma non vi preoccupate Non vi preoccupate che Che Gli zombie Sono Sono dei scemi Ragazzi Tanto Tanto lo so che io perderò Lo so che sono un hub Però Cerco di Cerco di Cesterla Più possibile Allora, spasso Questo Ah, no, no, raga Dobbiamo prendere il combat Vero Me l'ho dimenticato Un bel Un bel Scilio tattico Una matricchietta tattica E una bella minigun Ci fa sempre male Ok, raga Adesso dovrebbero venire degli zombie Passe che mi avvicino E raga Il nostro obiettivo è di distruggere Più basi possibili Dobbini Vi date una svegliata Eccoli 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 Vedi qua Brutti scemi di coccole Manda Tu ciccione Ciccione Tu ciccione Sono ciccione Questo è il ciccione maxi Questo è un gold E tieni Certo, per me è una cosa Della miglia Non credo di Sì Per vivere Della c'è rabbiato Oddio Non ce la faccio più Oddio Raga da solo non ce la faccio C'è bisogno di una mano di qualcuno Aiuto Si può bindare Si può bindare Ok 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 Grazie Mi hanno distrutto Tutta la vappa Oddio Oddio Tutte le armi Tutte le armi Vai 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 Ok Allora raga adesso Dobbiamo solamente distruggere Delle basi Ok Ok Sì Oddio Ok Spero che le tutte le armi siano caricate No Questa non è caricata Adesso Adesso raga Adesso raga lo devo solo distruggere Sì C'è una base distrutta C'è anche questa Mira Uuuu Raga Raga è l'ultima Raga è l'ultima Pazze Pum Un'altra distrutta Non create gold Non create gold Forse quelli creano gold Eh c'è già un gold Cosa mi puzza Questo gold Mori gold Mori Mori E qui No solo perché tengo i capelli gialli E ti ho rubato il colore Ma Sì ho capito che Per questo Però State restati calmo Eh sì vabbè No Raga andiamo a distruggere La base Non posso non più venire La base Non posso non più venire La base Ok 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 Ma 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 Caca Oh Ah no scherzavo 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 sto scemo panzone panzone ti ho chiamato si perché sono veramente panzone ti mangi i 57 paniglia a mnick donald al giorno si bromo non si si è cotto ti ho battuto Allora, ok C'ho quell'altro E' bianca la barca, è bianca Cioè nel senso che C'ho poca vita Pum, mi strutta Ma che ca... Ma mi ha fatto ballare Ma questi Ne sono abbondanti, eh, dei zombie Oddio Che è successo? Abbiamo vinto Abbiamo vinto, raga Abbiamo vinto 4 gli zombie Raga, perché avevamo 2 possibilità di morire La prima e la seconda Quindi, raga, abbiamo vinto Quindi il destino ci ha voluto bene Sì, adesso, raga Solamente Adesso, raga Qui sta Adesso la mappa non sarà più distrutta Adesso Adesso dice il destino Solamente di cancellare Queste Pasi Solamente di cancellare queste Si dice Perché ci hanno dato il permesso di volare E adesso Ragazzi, la fine della mappa Non c'è più Sì, 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 sì Ma, sì, sì Listo, zomi Così vi imparate la prossima volta Eh, questo qua bisogna rimediare Sì Adesso è tornata però In un altro modo Diciamo Che è cambiato pure Credo Che non lo so Guardate Però non c'è tanta differenza Tra adesso e prima Non possiamo Possiamo Fare così No Va bene Gli zombie Sono morti Tra poco concludere il video Però vi volevo far vedere La meccanica Perché Sembra così In un modo extraterrestre No I zombie vengono Non lo so Da un mondo extraterrestre E quindi Ho creato queste varie robe Per Per far sì che L'editing è più bello E Pure questa Come sembra che I zombie hanno lanciato Delle cose Velo nostro Non lo so E hanno fatto distruggere quello Qua c'è il magazzino Con qui il razzo Con qui il razzo Come se gli zombie Avessero messo un razzo E quando Hanno messo il razzo Quando hanno messo il razzo Cercavano di far Esplodere tutta la mappa Non ci sono riusciti E Poi Ho voluto fare Pure i magazzini distrutti Vabbè C'entrano Perché È come se distruggessero I tre magazzini Che non ci sono più Purtroppo E poi Ho fatto Un altro magazzino Così In modo tale Che è diventato Un clone Di questo Perché Clona Io C'è Ci sono i cloni Questa mappa E poi Ho messo una nave Se l'ho detto Su una nave Per Ver Distruggere Gli zombie Però Io non sono Salito su Nessuna cosa Varia Perché 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 Il papa Il papa Non è Rebrato Ragazzi Se avete Detto così Vi lascio Il cuoricino In più Spero che Questo video Vi sia Preciuto Lasciate un bel like Me lo commento Bella raga Ciao a tutti Ciao a tutti